Di stipendi di manager superpagati parleremo dopo perché per adesso vogliamo arrivare a uno dei temi più scottanti ed è quello del trasporto pubblico a Roma ma anche nel resto d'Italia. Ed allora buongiorno a Danilo Broggi, amministratore delegato dell'Atac. Dottor Broggi, io la ringrazio perché le devo confessare che pensavo che voi non aveste accettato il nostro invito perché l'Atac è una delle aziende sulle quali i giornali scrivono e il 95% delle volte non scrivono positivamente. Quindi grazie per essere venuto qui. Un dovere. Allora, vogliamo cominciare a parlare del primo tema che è quello dei biglietti non pagati. È un problema davvero per voi, importante? Sicuramente sì, anche perché da un lato è una voce importante dei nostri ricavi ma è anche un'operazione di giustizia nei confronti dei tanti passeggeri e cittadini che pagano onestamente il biglietto. Per darle alcuni dati, noi abbiamo iniziato da ottobre una campagna contro l'evasione, abbiamo controllato più di un milione di passeggeri. Teniamo conto che a Roma ogni giorno transitano più di 300 mila passeggeri e questo ha permesso di elevare sanzioni che sono, in confronto dell'anno scorso, aumentate del 16,2%. Questo soprattutto per quanto riguarda il tema della metropolitana. Stiamo adesso operando sulla superficie che è più complicata per ovvi motivi. Ma rimane questo, quindi il tema dell'evasione, un tema fondamentale direi su tutto il territorio nazionale. La nostra amica Michela Palmieri è stata su un autobus dell'Atac. Vediamo questo servizio e poi torniamo in studio. Si muovono in gruppo, anche per paura. Spesso sono stati insultati, a volte anche malmenati. Il mestiere del controllore è difficile e anche pericoloso. Non c'è bus a Roma che non abbia a bordo almeno un furbetto senza biglietto. Il posto sono 104 ore e 90 cento di soli. I numeri del dossier Atac sui controlli parlano chiaro. Con circa 100 controllori in tre mesi, sono state fatte oltre 21.000 multe e le contravvenzioni sono aumentate del 16,2% dall'inizio dello scorso anno. Siamo sul tram numero 5 che va a Centocelle, una zona periferica di Roma e questa è una macchinetta che è stata messa da più di un anno e mezzo e permette di fare il biglietto direttamente sul mezzo. Dunque non ci sono più scuse. Allora, come stanno andando le cose con queste macchinette? Per cui in effetti certe volte c'è il problema dove prendo il biglietto o i soldi spicci per comprarlo. Guardi, il tema di recuperare il biglietto è un tema relativo perché ci sono le macchine a bordo, abbiamo 2.500 biglietterie fisse sul territorio romano, abbiamo i distributori, circa 12.000 distributori fra tabaccai e giornalai e comunque l'azienda sta lavorando molto anche per usare la tecnologia. Già oggi, per esempio, i parcheggi con la sosta possono essere pagati col cellulare. Entro fine anno col cellulare potrete anche andare in metropolitana e riteniamo anche che si possa salire sul bus. Avevamo visto prima nel servizio si faceva cenno alla dura vita dei controllori che certe volte si trovano veramente proprio a rischio fisico. È un problema per voi questo? Come lo affrontate? È un problema perché anche basta un caso, come posso dire, per suscitare sicuramente l'attenzione dell'azienda. Devo dirle però in generale che i nostri controllori sono accettati molto bene dalla popolazione utente, soprattutto da quelli che pagano il biglietto perché evidentemente significa quello che dicevo prima, cioè fare un'operazione di giustizia. Insomma, è giusto che chi paghi il biglietto veda che anche l'azienda ha anche controlli chi non lo paga. È chiaro che ci sono situazioni come l'ultima che è successa che purtroppo possono scaturire, fa scaturire anche violenze o colluttazioni o comunque situazioni incrisciute. Ecco, qualche cronista di giornale è stato di recente in autobus e ha detto che quando sono entrati i controllori l'autobus si è svuotato letteralmente, sono rimaste pochissime persone. Questo significa che molti non avevano il biglietto. Sicuramente sull'autobus c'è la maggior parte dell'evasione perché la metropolitana comunque tra tornelli, uscite e controlli fisici è più facile. Devo dirle, abbiamo fatto un accordo col sindacato per cui da poco i controllori saranno in Borghese, già adesso, ed entrano ai semafori dalla porta anteriore. Quindi è chiaro che se uno entra alla fermata, chi arriva lo vede e quindi scende. Invece entrare in corsa ai semafori, cosa che adesso è permessa, sicuramente darà un effetto superiore dal punto di vista della verifica. Lei avrà sentito i suoi colleghi di altre città italiane ed europee. Com'è la situazione? Direi c'è una differenza fra quelle italiane e quelle europee. In generale quelle italiane soffrono tutte di questo problema, chi più chi meno. In Europa la situazione è meglio, sicuramente della nostra, sia perché ci sono stati fatti investimenti in tecnologie più importanti, e poi c'è anche un tema di educare i nostri cittadini al fatto che il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico. In quel pubblico c'è una responsabilizzazione di tutti, nell'azienda a far bene, nel cittadino a pagare il biglietto e anche nella componente pubblica a sorreggere soprattutto gli investimenti. Dottor Broggi, l'Atac è stata al centro di tante polemiche, la contiguidà con la politica, scandali, dipendenti che non vanno a lavorare. Ci dà una buona notizia? Ci dice che le cose stanno andando meglio, per favore? Guardi, la buona notizia sono due. Innanzitutto, questa è un'azienda che ogni giorno fa uscire 2000 bus, gestisce 311 linee, gestisce le due linee delle metropolitane, voglio dire, c'è tanta gente per bene, che fa il proprio lavoro con serietà e a cui va il mio ringraziamento. Sto parlando dei lavoratori Atac. L'altra buona notizia è che stiamo lavorando, soprattutto guardando al presente e al futuro e quindi non dimenticando il passato, ma concentrando le nostre energie sul presente e sul futuro per un'azienda che possa dare un servizio migliore e con i conti del bilancio più a posto del passato. Io la ringrazio, aspetta un attimo, perché volevo coinvolgerla, ma la cosa mi viene in mente proprio adesso, sul discorso che stiamo per fare con Giorgio Rembato, Presidente della Federazione Funzione Pubblica Cida, cioè con i manager. Buongiorno, Dottor Rembato. Allora, abbiamo visto prima che Moretti dice aspetto quello che mi dirà Renzi e mi convincerà a tagliarmi lo stipendio, perché di stipendi dei manager parliamo. Il Sole 24 Ore oggi dice stipendi pubblici, ecco tutti gli eccessi. E fa vedere che ci sono le retribuzioni oltre gli 80 mila euro lorde, che sono il 9,5% dei redditi della pubblica amministrazione. Allora, la prima domanda è questa. Tutti i manager sono come Moretti e dicono no, lo stipendio non si taglia, o si accetta per il buon destino di questa Italia in congiuntura? Mi faccio dire prima di tutto che tutti i manager non sono accomunabili all'interno della stessa barca, cioè non si può fare di ogni erba un fascio. Ci sono tra i dirigenti pubblici almeno tre categorie fondamentalmente diversificate l'una rispetto all'altra. E sono da un lato i dirigenti di diretta collaborazione con i ministri e con i gabinetti dei ministri, per lo più magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri di Stato, eccetera. Ci sono i manager delle partecipate e fanno un caso a sé e ci sono la dirigenza di carriera. Ora, se noi partiamo da quest'ultima, non possiamo certamente parlare di retribuzioni particolarmente elevate. Vorrei farle due o tre esempi, se posso, in mezzo minuto. Io mi riferisco al prospetto ufficiale dell'Aran, che è l'agenzia di rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e controparte delle organizzazioni di categoria nella fase di revisione dei contratti. E questi sono i dati aggiornati. Allora, si va da un massimo di 145 mila euro per i dirigenti degli enti pubblici non economici a un minimo di 66 mila euro, lordi annui naturalmente, per i dirigenti delle scuole. Se dovessimo trovare una collocazione intermedia potremmo fare vari esempi intorno ai 90 mila euro. E mi potrei riferire alle regioni, autonomie locali, ministeri, agenzie fiscali e quant'altro. Buoni stipendi, ma non superstipendi. Ecco, non è le cifre che si possono immaginare anche dalla lettura dei giornali di questi giorni non corrispondono al vero. Io direi intanto, adesso vediamo Susanna Lemma che ha fatto un po' il quadro della situazione e poi torniamo in studio e visto che abbiamo un manager gli chiediamo che ne pensa. Un manager pubblico non deve guadagnare più del Presidente della Repubblica ossia 239 mila 181 euro lordi all'anno. E' questo il principio da cui parte Matteo Renzi per ridisegnare i compensi dei dirigenti statali i cui ricavi dovrebbero servire a finanziare anche la riforma della pubblica amministrazione. Ieri il Ministro Madì ha annunciato 85 mila prepensionamenti per favorire l'ingresso dei giovani in questo settore ma se l'obiettivo del Governo è chiaro più confusa appare la situazione attuale. C'è il decreto firmato dall'ex Ministro dell'Economia Saccomanni che era stato un po' più di manica larga prevedendo un tetto massimo di 311 mila euro lordi l'anno come il primo Presidente della Corte di Cassazione. Sono società come Anas, Consap, Expo 2015. Per le società quotate in borsa invece da Eni, Enel, Affinmeccanica e per quelle come la Cassa Depositi Prestiti, Ferrovie dello Stato e Poste si applicano le norme varate dal Governo Monti. Viene cioè sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti una proposta di taglio del 25% del trattamento economico complessivo che per alcuni manager cosiddetti dagli stipendi d'oro vorrebbe comunque dire uno stipendio di gran lunga superiore a quel tetto di poco più di 239 mila euro proposto da Renzi. Allora, quindi questa è la situazione. In generale i manager accettano di partecipare a questo sforzo decurtando una parte dei loro stipendi e fino a quanto sarebbero disposti a accettare un taglio? Per la dirigenza di carriera di cui parlavo prima siamo di gran lunga al di sotto del tetto che si ipotizzava e quindi da questo punto di vista c'è da augurarsi che non ci possano e non ci debbano essere decurtazioni. Tenga conto anche del fatto che la retribuzione dei dirigenti è bloccata per una moratoria contrattuale da quattro anni e quindi non ha subito miglioramenti nel corso degli ultimi quattro anni. Non si sa quando si potrà riprendere la contrattazione e con il rinnovo dei contratti quindi la situazione è già fortemente penalizzante per la categoria. Allora, visto che è con noi Danilo Broggi amministratore delegato dell'Atac io vorrei chiedergli se lui per quanto lo riguarda accetterebbe una decurtazione dei propri emolumenti. Io l'ho già accettata perché il mio emolumento è più basso è il più basso tra i miei dirigenti assunti in azienda. Il problema però è un altro, guardi le responsabilità di un manager pubblico sono enormi parliamo adesso di aziende pubbliche io credo che si debba fare solo disciplinare questa materia forse il tetto non è neanche la scelta più giusta quanto per esempio mettere una forte direi preeminente componente variabile dell'emolumento relativa ai risultati. un manager bravo che porta risultati che crea ricchezza deve essere pagato chi non è in grado di portare risultati o se ne va a casa senza perché è successo in questo paese che i manager hanno fatto disastri si sono anche portati via diversi milioni quindi o se ne va a casa oppure prende la sua retribuzione fissa che evidentemente è una parte non preeminente dell'intera retribuzione. Io la ringrazio è stato chiarissimo molto condivisibile quello che dice grazie a Danilo Broggi grazie a Giorgio Rembado per essere stati con noi prima di chiudere vogliamo fare un sorriso vogliamo fare con l'unità